Nuovo appuntamento dedicato alla rubrica settimanale nutrizione e benessere in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che per questa edizione non parlerà nello specifico di un alimento, ma bensì della steatosi epatica e alimentazione. Quindi spieghiamo ai telespettatori di Cilento Channel di che cosa si tratta. Sì, la steatosi epatica è oggi una condizione molto diffusa e il dato allarmante è che si sta sempre più verificando anche nei bambini e nei giovanissimi. Che cos'è? In realtà, anche se viene detta comunemente fegato grasso, proprio perché il fegato che svolge tantissime funzioni all'interno dell'organismo arriva a pesare anche un chilo e mezzo, però in determinate condizioni ci può essere un accumulo eccessivo di grassi all'interno del fegato e quando supera il 5% del peso totale si parla appunto di steatosi epatica. Ci sono una serie di fattori di rischio, che sono per esempio il diabete di tipo 2, il sovrappeso, l'obesità, le dislipidemie, cioè avere il colesterolo e i trigliceridi molto alti, la scarsa attività fisica, ma anche l'alcolismo. Questo perché la steatosi epatica può essere di due categorie. Si parla appunto di steatosi epatica alcolica ed è quella che riguarda soprattutto i forti bevitori, proprio per il grande consumo di alcol, oppure una steatosi epatica non alcolica, quindi dovuta essenzialmente a delle cattive abitudini alimentari. Il fegato grasso all'inizio, che può essere anche una condizione irreversibile, non porta sintomi, però se non curata, quindi se non vengono prese delle misure, nel lungo periodo può anche evolvere in steatoepatite, fibrosi e cirrosi, quindi con una grave poi compromissione delle funzionalità epatiche. Cosa fare? Una volta che si è avuta la diagnosi di steatosi epatica, se si è in sovrappeso, ovviamente bisogna ridurre il peso totale, quindi attraverso una dieta ipocalorica equilibrata, ma anche cambiare un po' lo stile di vita, facendo anche magari dell'attività fisica e ovviamente mettendo in campo tutta una serie di regole alimentari. Quali sono gli alimenti che più possono provocare il fegato grasso, così comunemente chiamato? Sì, allora sono da eliminare assolutamente l'alcol in tutte le sue forme, tutti gli alimenti molto ricchi di grassi saturi, ma anche di zuccheri semplici, prediligere determinati metodi di cottura come al vapore, alla griglia, al forno, evitare invece le fritture, il ragù o comunque i condimenti molto grassi, molto ricchi, prediligere invece un'alimentazione che sia basata più sui cereali integrali, quindi molto ricca anche di fibre, di legumi, verdura cruda, cotta, il pesce, soprattutto quell'azzurro, per l'ottimo contenuto di Omega 3, utilizzare solo l'olio extravergine di oliva come condimento, e anche dei formaggi magri, lo yogurt, a tutto questo ovviamente si può anche aggiungere degli integratori di sostanze naturali che hanno naturalmente una funzione depuratrice sul fegato, quale per esempio il cardomariano, la silimarina, oppure anche degli antiossidanti come glutatione. Bene, grazie dei preziosi consigli dottore, grazie anche ai nostri telespettatori. L'appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere torna la prossima settimana.